Noi lo riteniamo inaccettabile, adesso aspettiamo il prossimo Consiglio dei Ministri che potrebbe essere venerdì, se non avremo ancora risposte torneremo in questo Ministero e magari anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per dire che ai pensionati bisogna dare un po' più di risposte e magari alle banche un po' meno di risposte. Renzi invece ha invertito un po' l'ordine dei valori di questo Paese.